Mettere in moto è la spalla, che va da qua a qua. Com'è che la metto in azione? Ruotando. Seconda leva che entra in gioco è il braccio sinistro, che si alza. Terza leva è il bastone che è messo in moto dal polso. Quindi se io non ruoto o non alzo le braccia, faccio molto meno strada. Quindi, quello che dicevo prima, che non è una questione di forza fisica, più io riesco a ruotare bene le spalle e più sviluppo velocità. È come una molla, io mi carico con le spalle e poi quando mi lascio andare il corpo si rigira e questo, come abbiamo detto prima, si flette e fa un effetto frusta. Quindi, quando proverete adesso voi a giocare, non dovete concentrarvi a colpire la palla. La differenza fra un tiro e colpire la palla è questa. Se io muovo il bastone correttamente, giro, giro e la palla la colpisco. E vedete che la butto in avanti. Se io mi concentro a colpire la palla, diventa così. E vedete che la butto in avanti.